Mura megalitiche, ci troviamo di nuovo in Papua Asia Centrale per raccontarvi di più di questa recentissima scoperta, centinaia e centinaia di chilometri di mura all'interno della Papua Centrale che arrivano fino alla costa, chi le avrà costruite? Perché e soprattutto come hanno fatto a portare questi enormi blocchi e a ritagliarli in questo modo così singolare in modo da formare una catena di mura lunga, paragonabile solo alla grande muraglia cinese. Adesso ci troviamo nelle vicinanze di una recentissima scoperta, è uscito qualcosa, sembra un rottame, un relitto, non si capisce, la datazione al carbonio risale, ci fa sapere che siamo ai 10.000 anni a.C. e non si capisce di cosa sia fatto questa formazione pseudo argillosa. Abbiamo chiesto il parere di vari esperti, adesso abbiamo al nostro fianco la dottoressa Mouriez-Van dell'Università della Sorboa di Parigi che ci deluciderà meglio a riguardo. Dottoressa, venga qui. Salve, questa è una recente scoperta che sembra messa dal nulla, forse per merito delle grandi buracche che ci sono state. La sua composizione è molto strana e anche noi nella scientifica siamo riusciti a capire che cosa fosse concosta. Sembra, l'abbiamo presa in esame, l'abbiamo confrontata con tutti gli altri materiali della terra, solo cui non siamo riusciti a capire ancora che cosa fosse e iniziamo a pensare che fosse che provenga da un'altra pianeta. Quindi origini extraterrestri, ma lei si tende conto dell'affermazione che sta facendo? è ovvio che avrà studiato bene la composizione, quindi è sicuro che è una provenienza non terrestre. È possibile che a quell'epoca ci fosse stato qualche altro materiale che forse oggi si sarebbe stinto, però c'è da prendere in considerazione anche l'ipotesi di un'altra pianeta. Grazie dottoressa e alla prossima puntata di Mura Megalitiche, non mancate!